Se devo dirvi la verità c'è una cosa che non sopporto o comunque mal digerisco di quelli che fanno il nostro lavoro cioè i marketer, i pubblicitari, chi si occupa di comunicazione ed è il voler necessariamente complicare quanto più possibile le cose utilizzando quelli che sono inglesismi totalmente inutili quando effettivamente esiste un corrispettivo italiano che magari potrebbe far comprendere più facilmente al nostro cliente che cosa stiamo cercando di dirgli è una battaglia praticamente che sto conducendo su questo canale dove cerco di spiegare quanto più semplicemente possibile qual che è l'arte del marketing e oggi non voglio essere da meno oggi voglio parlarvi di KPI anche detta Kee Performance Indicator banalmente se lo traduciamo in italiano diventa molto più semplice da comprendere sono degli indicatori che ci fanno capire se la nostra campagna pubblicitaria sta andando bene o sta andando male quindi cerchiamo di andare un pochino più nei dettagli cerchiamo di capire cosa si associa a queste KPI come si utilizzano, come si valutano ma soprattutto quali sono le più famose e di conseguenza quelle che dobbiamo conoscere detto ciò, iniziamo prima di tutto è necessario fare una differenzazione esistono quelle che sono KPI standard e KPI avanzate alcune possono preferirsi a obiettivi di business altre a semplici campagne pubblicitarie quindi il termine KPI si può utilizzare sia nell'identificare una semplice campagna pubblicitaria sia quel che è un obiettivo aziendale quindi ad esempio sfondare il fatturato di 10 milioni di euro l'anno alcuni esempi di KPI standard sono sicuramente il CTR, il CPA, il ROAS e il tasso di conversione ora per come li ho detti vi ho già messi e me ne rendo conto ma adesso andiamo a spiegarli vi faccio capire che non sono poi così tanto difficili CTR si intende click through rate cioè vale a dire il costo per click quindi quanto ci costa fare in modo che un utente clicchi sulla nostra campagna pubblicitaria quindi ad esempio abbiamo messo in evidenza un post quanto ci costa far sì che una persona che ha visto il nostro post sponsorizzato clicchi sul link dedicato quindi quello è la metrica come vedete non è nulla di difficile se parliamo invece di CPA si intende costo per acquisizione ovvero supponiamo che abbiamo fatto sempre lo stesso tipo di campagna di sponsorizzazione il nostro utente ha cliccato sul link poi arriva in fondo a quella nostra landing page e decide di lasciarci i dati quindi ci lascia nome, cognome, email e telefono di modo che possiamo contattarlo quante persone effettivamente di tutte quelle che hanno cliccato di tutte quelle che hanno visualizzato la sponsorizzata alla fine ci hanno lasciato il dato questo sta a identificare il CPA quindi il costo per acquisizione altro dato rilevante è sicuramente anche il tasso di conversione vale a dire di tutte le persone che sono arrivate sulla nostra landing quindi abbiamo fatto la sponsorizzata arriva sulla landing page di tutte queste quante effettivamente poi sono diventati utenti quanti effettivamente ci hanno contattato perché magari solo il 5% il 2% o magari nessuno sono tutte valutazioni che ci consentono poi di andare a ottimizzare quel che è la campagna il ROAS altro non è che il ritorno sull'investimento pubblicitario quindi se abbiamo speso 100 e abbiamo ottenuto 1000 direi che il ROAS è positivo il concetto di KPI come prima indicazione è stata introdotta sicuramente da Google Analytics però è il concetto di KPI cioè quello che c'è dietro il KPI cioè la rivoluzione digitale che ci ha consentito di fare così tanto affidamento su quelle che sono le campagne di marketing digitale perché chiaramente i KPI non si possono misurare ad esempio con la cartellonistica stradale non abbiamo idea effettivamente sì possiamo fare una stima in base al traffico ma non sappiamo quante persone hanno visto quel determinato cartellone pubblicitario o magari erano concentrate a guidare quindi non stavano guardando i cartelloni pubblicitari che in teoria dovrebbe essere la cosa giusta pertanto questi indicatori sono una fonte preziosa di dati che ci consente di dare ancora più valore a quel che è appunto la campagna digitale pubblicitaria seconda differenzazione che va fatta è tra KPI e obiettivi molte volte si tende ad assimilarli assolutamente non è così sono due concetti completamente diversi una cosa è parlare di obiettivo quindi io voglio raggiungere tot clienti in un determinato giorno tramite la sponsorizzata oppure voglio raggiungere tot fatturato alla fine dell'anno quello è l'obiettivo il KPI invece è un semplice indicatore è un dato statistico che poi va confrontato con quelli che sono gli obiettivi quindi sono due dati completamente differenti e come tali vanno trattati facciamo qualche esempio qual è l'obiettivo magari di un social media manager che cura una pagina aziendale? potrebbe essere aumentare il numero di follower qual è il KPI collegato? il KPI collegato è il costo per acquisizione del follower quindi magari abbiamo avviato una campagna di sponsorizzazione con l'obiettivo metti like alla pagina vedere quanti effettivamente vedono la sponsorizzata su quanti poi diventano effettivamente follower dalla pagina è l'indicatore che stiamo cercando quindi la differenza è netta facciamolo invece a livello aziendale supponiamo che il nostro obiettivo aziendale sia aumentare le vendite tramite il social network qual è il KPI collegato? il KPI collegato è il costo per conversione quindi dato che per il nostro caso conversione stiamo intendendo diciamo in maniera molto banale la vendita anche se in realtà solitamente la conversione si intende il rilascio semplice dei dati ma anche in questo caso si capisce abbastanza in maniera semplice che c'è una differenza netta tra l'obiettivo quindi vogliamo vendere tramite il social network e effettivamente il KPI collegato cioè quanto ci costa effettivamente vendere tramite il social network qual è l'indicatore? chiaramente all'interno dell'azienda ci saranno persone che si occupano di valutare quali che sono gli obiettivi dell'azienda anche in ambito puramente di social media e la persona che si occuperà di data analysis quindi di verificare effettivamente se i KPI corrispondono a quali che sono gli obiettivi che si volevano raggiungere ora che abbiamo capito quali sono le differenze tra KPI ed obiettivi cerchiamo di capire quando vanno impostati i KPI e quali sono gli obiettivi e i KPI più comuni prima di partire in ogni caso è necessario considerare che i KPI molte volte vengono utilizzati proprio per cercare di capire se l'agenzia di marketing il consulente che vi sta seguendo è in grado di corrispondere a quelli che sono gli obiettivi che avete preposto vale a dire se sta lavorando bene o se sta lavorando male quali sono però le principali caratteristiche che dovrebbe avere un KPI ben formato? prima di tutto dovrebbe essere una valutazione numerica assoluta o in percentuale dovrebbe avere una connotazione temporale precisa quindi ad esempio il KPI valutato su una campagna di 28 giorni dovrebbe mostrare un grafico che sia di crescita o di decrescita e dovrebbe fare riferimento come abbiamo detto poco fa ad un obiettivo specifico non ha senso misurare un KPI senza avere un obiettivo per farvi capire ancora meglio cerchiamo di fare degli esempi a livello puramente aziendale quindi come si andrebbero a definire quali che sono i KPI per verificare se un'azienda sta funzionando bene facciamo riferimento al reparto di vendita per verificare che questo reparto stia funzionando bene un indicatore di KPI potrebbe essere sicuramente il fatturato quindi una crescita di fatturato indica che il KPI è buono e quindi si stanno raggiungendo determinati obiettivi il numero di nuovi clienti magari a fronte di un investimento in campagne pubblicitarie e il tasso di ritenzione dei clienti quindi magari clienti vecchi che continuano ad acquistare o che magari decidono di rimanere comunque ancora clienti se facciamo riferimento ad esempio al reparto marketing potrebbe essere il tasso di conversione quindi quanto spendiamo affinché un cliente o un possibile cliente ci lasci sui dati come detto prima potrebbe essere anche CTR e CPA quindi il costo affinché un cliente lascia un click e il CPA il costo affinché ci lasci sui dati se facciamo riferimento al CRM quindi al customer service potrebbe essere ad esempio il tempo medio di risposta quindi quanto ci mettiamo per rispondere ad un cliente che magari ci ha lasciato una domanda in chat secondo dato qual è il tasso di risoluzione del contratto perché magari è possibile che un contratto venga firmato dal reparto commerciale ma venga disretto entro i primi 30 giorni cosa succede? perché succede? questo può essere un KPI rilevante in ultimo potrebbe essere il tasso di soddisfazione del cliente anche verso qualche customer service quindi se si è trovato bene e lascia una valutazione positiva quello è un KPI importante se invece parliamo di brand awareness vale a dire la notorietà del brand stesso quanto effettivamente come azienda stiamo diventando famosi si potrebbe fare riferimento ad esempio a quelle che sono le impression quindi quante volte compariamo a determinati utenti quante volte al giorno ad esempio di questi si potrebbe pensare anche al tasso di engagement quindi se pubblichiamo un post in quanti effettivamente contribuiscono quanti effettivamente commentano quanti lasciano like tra il 10 e il 15% potrebbe identificare un tasso di interazione molto elevato oppure terzo dato potrebbe essere la ricerca organica quindi effettivamente quante persone ci cercano direttamente sul motore di ricerca di Google questo dato si può apprendere facilmente da quelle che sono i Google Analytics di conseguenza come avete avuto modo di vedere abbiamo differenziato quelli che sono i KPI dal punto di vista aziendale che si riferiscono principalmente a quelli che sono gli obiettivi dell'azienda come può essere l'aumento delle vendite e i KPI per singola campagna quindi ad esempio i vari lead generati ovvero il numero di contatti effettivamente ricevuti per una determinata campagna pubblicitaria ora che abbiamo ben chiaro quel che è la differenzazione tra KPI ad uso aziendale e KPI ad uso per campagna pubblicitaria scendiamo ancora più nel dettaglio con quelli che possono essere degli esempi e cerchiamo di capire effettivamente come vanno utilizzati questi KPI facciamo un esempio supponiamo di voler valutare qualche brand awareness della nostra azienda quindi vogliamo capire qual è il tasso di crescita organica della nostra impresa possiamo aver investito ad esempio in una campagna pubblicitaria su Facebook abbiamo investito in influencer abbiamo fatto dei volantini abbiamo fatto dei castelloni pubblicitari come facciamo a valutare se tutte queste operazioni stanno dando dei frutti? come prima opzione sicuramente valutare nel tempo immediatamente susseguente rispetto all'avvio della campagna pubblicitaria quel che sono gli incrementi di visualizzazioni del nostro sito web quel che è il traffico diretto quindi persone che magari non passano dal motore di ricerca per parole chiave correlate quindi ad esempio stai vendendo auto ti chiami Tizio Caio Auto SRL non ci sono persone che sono arrivate a te perché hanno cercato auto usate e poi sono arrivati sul tuo sito ma ci sono persone che hanno cercato proprio Tizio Caio SRL e sono arrivati da te secondo aspetto potremmo utilizzare ad esempio Google Search Console che è una console messa a disposizione direttamente da Google che ci consente di monitorare quelle che sono le ricerche che portano al nostro sito web quindi supponiamo che io sia un avvocato invece di visualizzare magari ricerche di persone che cercano avvocato a Bari o avvocato penalista a Bari scopriamo che molte più persone cercano avvocato Salve Ricerillo a Bari questo indica che effettivamente la nostra campagna sta funzionando bene quindi più persone stanno cercando proprio il nostro nome e cognome proprio la nostra regione sociale per poter arrivare presso di noi verso il nostro sito web terzo elemento di indicazione può essere sicuramente anche la crescita sui social media se vediamo un incremento notevole per quel che riguarda il numero dei follower sui nostri social media probabilmente dettato anche da tutte le operazioni che abbiamo fatto come campagne pubblicitarie quindi anche ad esempio il volantinaggio o quelli che sono 6x3 o quelli che sono campagne pubblicitarie dedicate secondo esempio potrebbe essere quello del customer service quindi il CRM la cosiddetta cura clienti che in realtà è il cuore di qualche impresa perché se riusciamo a mantenere quelli che sono i nostri clienti riusciamo a fare in modo che questi siano felici si può semplicemente crescere come valutiamo se questo reparto sta lavorando bene? supponiamo che abbiamo un'azienda che tende a perdere molti clienti nel corso del tempo e molte persone molti dei nostri clienti o ex clienti si sono lamentati proprio del reparto cura clienti e supponiamo di voler investire in un corso di formazione per il nostro reparto quindi abbiamo pagato a tutti i nostri dipendenti un corso di formazione per migliorare in qualche customer service ora, avendo fatto questo investimento vogliamo capire da imprenditori se l'investimento sta vendendo o meno il primo KPI interessante potrebbe essere creare un sondaggio su quelli che sono i nostri clienti e cercare di capire il loro livello di soddisfazione secondo KPI interessante potrebbe essere valutare il numero di reclami se notiamo che il numero di reclami è in calo costante probabilmente il nostro costo di formazione il nostro investimento ha fruttato terzo potrebbe essere il tempo di risposta sappiamo benissimo quanto il tempo di risposta sia correlato a quel che è la soddisfazione del cliente il quarto potrebbe essere il tasso di risoluzione al primo contatto quindi ad esempio se io ho firmato un contratto però nel momento in cui faccio il primo contratto con il customer service perché ho avuto un determinato problema non sono interessato comunque il customer service mi risolve il problema e quindi non mi va di risolvere il contratto perché comunque mi sto trovando bene quello è un tasso di KPI importante terzo esempio è sicuramente quello dell'ambito dell'e-commerce è sicuramente l'ambito in cui più si applicano quelli che sono i KPI di fatti i più famosi sono i seguenti il tasso di conversione il tasso di abbandono del carrello perché magari ci sono persone che hanno messo dei prodotti nel carrello ma alla fine non concludono l'acquisto il valore medio dell'ordine il costo medio il costo di acquisizione del cliente perché magari abbiamo fatto una sponsorizzata vogliamo capire se effettivamente questo cliente si è convertito e quanto ha speso il margine di profitto lordo e in ultimo il lifetime value del cliente perché il nostro obiettivo dovrebbe essere sia acquisire un nuovo cliente ma allo stesso tempo mantenerlo a lungo termine come vi facevo l'esempio nel precedente video quando vi parlavo di una pizzeria una pizzeria che acquistisce un cliente lo paga 10 euro questo cliente perché magari tra le tutte le campagne che ha fatto gli costa 10 euro può sembrare tanto ma se consideriamo che solitamente un cliente che trova una pizzeria affidabile che si trova bene continuerà ad acquistare magari la pizza a domicilio da lì per i prossimi 5 anni probabilmente vi potrà fruttare a fronte di 10 euro di spesa migliari di euro quello è un KPI molto interessante ovviamente i KPI si possono applicare anche a quelli che sono semplici siti web o alla SEO fatta per il sito web o ad esempio anche al blog aziendale e quindi di conseguenza potremmo voler misurare qualche traffico organico del blog le pagine viste da un singolo utente nel momento in cui accede al nostro blog perché magari abbiamo citato articoli correlati che erano interessanti per il nostro utente nonché il tempo medio quindi se un articolo è stato letto tutto o magari è stato lasciato a metà bene vi ho spiegato dunque quali che sono i principali KPI e come vanno misurati ora la palla sta a voi semplicemente dovete cercare di capire quelli che sono i vostri obiettivi aziendali anche puramente in ambito di vendita anche quello che vi aspettate dal marketing e poi valutare quali che sono questi indicatori che potrebbero farvi capire se le cose stanno andando bene o se le cose stanno andando male d'altronde siamo imprenditori quindi abbiamo necessità di capire se un investimento sta producendo i suoi frutti o se non sta producendo i suoi frutti detto ciò spero di avervi aiutato con questo video a chiarirvi un po' le idee nel caso vi sia stato utile vi invito a lasciare un like qui sotto se avete domande c'è la sezione ai commenti vi risponderò direttamente lì se invece vi interessano questo tipo di tematiche vi invito ad iscrivervi al canale noi ci vediamo in un prossimo video iscriviti al canale